Buongiorno, ben trovati a Occhio ai Giornali, la serie stampa di Fano TV che ogni mattina accompagna il vostro inizio di giornata. Come sempre il resto del Carlino e Corriere Adriatico qui pronti per mostrarvi le pagine di apertura e anche quelle all'interno con le notizie principali che vi faremo vedere. Poi naturalmente andando in edicole, comprando il giornale potrete approfondire tutto l'articolo. Noi vi facciamo soltanto così un volo radente su quelle che sono le notizie principali all'interno dei quotidiani. Ma prima, come sempre, facciamo anche una puntata sul meteo e anche con l'almanacco del giorno. Quindi vediamo il santo di oggi qual è. Oggi, mercoledì 4 gennaio, la beata Angela da Foligno. Il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.45. Previsioni del tempo. Vediamo con l'ausilio della Protezione Civile delle Marche e le loro cartine che cosa si prospetta nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Vediamo appunto quello per oggi. È un cielo sereno, poco nuvoloso, con aumento di stratificazioni bassi sui versanti occidentali nel crinale appenninico nel corso del pomeriggio. Le precipitazioni non sono presenti, temperature ancora in diminuzione e i fenomeni da segnalare in modo particolare sono appunto le gelate diffuse sugli interni, sulle zone interne, sui rilievi, ma anche io direi nelle prime ore della mattina, per chi esce di casa molto presto, attenzione a questo fenomeno. Domani cambia un po' il tempo. L'abbiamo sentito anche ieri sera nel nostro telegiornale con Francesco Cangiotti che ci ha detto che insomma da giovedì ci sarà una recrudescenza del meteo, ci saranno precipitazioni sia piovose che nevose. Vedete il limite delle nevicate scende attorno ai 400-500 metri, quindi insomma quote molto basse, collinari, quindi nel pomeriggio deboli e diffuse, anche oltre che i settori montani anche in progressivo calo verso il livello del mare. Il cielo sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con nuvi basse, stratificate e nei settori però centro-meridionali, vedete compare anche la simbologia della pioggia mista anche a neve nella vassa marche. Temperature minime e stazionarie, salirà di qualche grado la massima. Per venerdì, vedete, non compare per niente la simbologia del sole, anzi nuvele grigie e minacciose e raddoppiate, quindi insomma venerdì dovrebbe essere proprio un giorno orribilis per il tempo, nuvoloso, molto nuvoloso, soprattutto nella prima parte della giornata. Gelate, anche qui presente la simbologia agli interni, all'interno della regione sul crinale appenninico e le nevicate, vedete, sono presenti anche sulla costa, vedete, nella provincia di Ancona, la previsione è questa. Quindi insomma previsioni per un fine settimana non incoraggiante dal punto di vista meteorologico, vedremo quella che sarà l'evoluzione. Per intanto guardiamo i giornali, vi porto subito nella pagina del resto del Carlino, la pagina di apertura, quella che apre l'inserto pesarese, la provincia di Pesaro, subito Banca Marche, si parla di Banca Marche, arrivano i rimborsi e quindi insomma buone notizie per i risparmiatori, il tribunale, poi alcuni uffici traslocano, traslocano dopo le fiamme e dicono è l'unico modo per fare i processi. Poi spingarde fatte in casa, arrestato un 64enne, dopo vediamo cosa sono le spingarde, poi ancora cronaca, picchia pensionato, coppia in manette e poi paura meningite, i genitori corrono verso i vaccini. Allora le spingarde sono praticamente dei tubi di metallo collegati a un percussore con una cartuccia da caccia infilata dentro, questo 64enne aveva scogitato questo sistema, poi come alle volte abbiamo visto in maniera un po' buffa nei cartoni animati, quando si arriva alla porta, partiva questa scarica di pallettoni ed è stato arrestato perché il sistema non è proprio del tutto regolare, ma poi vedremo anche nelle pagine del Corriere Adriatico questa notizia ripresa. Andiamo a vedere l'articolo sul Corriere del resto del Carlino per quanto riguarda la questione della meningite, sale la paura, corsa a vaccinare i bambini, le madri negli ambulatori, dicono appunto voglio stare tranquilla. Le scorte ci sono scorte anti-meningo-cocco di tipo B, mentre il tetravalente sarà disponibile solo a metà gennaio. Ancora altro argomento caldo, diciamo così, è quello dei saldi che fra 48 ore partiranno, pensieri diversi tra consumatori e commercianti, saldi gli irriducibili non ci stanno, dicono così presto si uccide il mercato. Giro tra i negozianti a 48 ore dall'inizio, dicono rimandiamoli a febbraio. Qui vedete alcuni commercianti del centro di Pesero intervistati da Elisabetta Rossi del resto del Carlino. Ancora nelle pagine del quotidiano bolognese vediamo quella che riguarda Fano. Anche qui commercianti sul piede di guerra, ma per altri motivi, non per i sconti o i saldi, ma perché via Cavour, una strada importante per Fano, è sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale per essere fatta a ZTL. Ed è polemica, sei mesi di cantiere, poi la ZTL è polemica tra i commercianti di via Cavour, li vedete qui quelli principali, anche qui intervistati dal resto del Carlino, da Tiziana Petrelli che fa un giro tra di loro. Poi progetto, naturalmente riqualificazione del centro storico, l'amministrazione si ispira a via Garibaldi per pavimentazione e illuminazione. Via Garibaldi è un esperimento riuscitissimo, una strada ridata al suo splendore, veramente anche in poco tempo. All'inizio anche lì qualche perplessità, qualche disagio, ma poi adesso se ci passate vedete che cosa è diventata e anche a beneficio degli esercizi commerciali e poi anche delle abitazioni che si affacciano su quella strada. Quindi insomma alle volte bisogna digerire un po' certe operazioni. Ancora, cronaca nel resto del Carlino, rapinato e picchiato in strada, pensionato in ospedale con diverse fratture, una coppia catturata dai carabinieri. Il bottino però è magro, è magro soltanto a 130 euro per quello che poi è stato il modo in cui sono stati estorti questi soldi. Interquantieri non solo polemiche, l'analisi dell'ingegnere fraternale, ma a me l'interquantieri piace, quindi una voce un po' fuori dal coro. Dice l'unico neo, a parte il problema di pedoni e ciclisti, i pannelli antirumore sono in effetti esagerati e di questo ce ne eravamo un po' accorti tutti. La Befana, la Befana a Fano sta per arrivare dal cielo, un po' per terra, un po' sulle foto. Vedete qui c'è, la Befana si è fatta furba, solo chi avrà il biglietto potrà ritirare i dolciumi perché ci sarà naturalmente delle 1200 calze, ci sarà la possibilità di averli per tutti, solo che si eviteranno i furbetti che facevano uno o due giri, solo chi avrà il tagliandino che sarà distribuito in piazza dagli addetti della Proloco, ritirerà la calza tanto agoniata. Qui vedete una foto di qualche tempo fa all'aeroporto con la Befana che è scesa dal cielo e anche qui, tempo permettendo, ci saranno le Befane paracadutate, insomma dieci vecchine voleranno dal cielo all'aeroporto di Fano e anche motorizzate con le Vespe del Vespa Club, insomma sarà un fine feste di Natale all'insegna del divertimento e del gusto. Non scordiamoci anche i litri e litri di cioccolata calda che verrà distribuita sia in piazza che all'aeroporto. Ma questa sera c'è un appuntamento che ormai è diventato un must per Fano, la partita di pallavolo tra politici, sacerdoti, giornalisti e Proloco, varie squadre dell'Avis al Palazzetto dello Sport, tutto naturalmente in beneficenza alle 20 e 30 al Palazzetto dello Sport per un quadrangolare di pallavolo, tutto all'insegna del divertimento, insomma poco competitivo, si dice così. Poi dopo quando si è lì invece bisogna, si vuole tutti vincere, però lo scopo è quello solidale, andranno ai terremotati i fondi raccolti. Apriamo, vi porto nelle pagine del Corriere Adriatico, pagina di apertura, anche qui in grande evidenza il Tribunale sigillato e uffici traslocati, la Procura del Giudice di Pace, tempi lunghi anche per la bonifica. All'aeroporto poi si parla appunto di Fano, riattivati tutti i servizi, ma rimane il nodo dell'Enac, quindi sarà questo un nodo da sciogliere da parte del nuovo amministratore, tutto nell'articolo di Massimo Foghetti. Ancora nelle pagine però vediamo, procedendo con ordine, quelle che riguardano Pesaro, si parla di sanità, di ospedale unico, Ceriscioli, si parla dell'ospedale, del progetto per l'ospedale, è tutto rimandato a settembre, nuova struttura, fondi per il piano già stanziate, il Presidente detta i tempi dopo le mediazioni e quindi detta l'agenda di questa struttura che vedrà la sua nascita tra Fano e Pesaro a Muraglia, probabilmente come è stato annunciato. Allora, Tribunale, anche qui chiusura totale, uffici personale trasferiti, a pagina 5 l'articolo che riguarda le vicende dell'ospedale post incendio, il problema sono le polveri pericolose che si sono sprigionate a causa appunto dell'incendio e i tempi lunghi per la bonifica impongono una chiusura, uno stop delle attività del Tribunale. Si parla anche nelle pagine che riguardano la provincia di Pesaro delle Unioni, delle Unioni, insomma Vallefoglia e Collermetauro è stata già, come dire, rettificata, però parla il Sindaco di Monte Ciccardo e dice gelate le aspettative di un progetto incentrato su otto comuni, anche Gabice e Gradara sono tentennanti ma il patto di Granarola non c'entra nulla. Unione mai con Pesaro e Vallefoglia, questo è il pensiero del Sindaco di Monte Ciccardo. Andiamo nella pagina di Senigallio, ve la faccio vedere dopo, ecco quella della Val Cesano ve la volevo mostrare perché mostra una foto molto eloquente per gli amanti della neve e dello sci, inizio d'anno con i fiocchi perché apre la funivia del Catria, vedete questa immagine tutta innevata, molto bella, molto suggestiva e con le nuove cabinovie che sono qui, sono degli ovetti che trasportano gli sciatori in quota per poi ridiscendere, questo è il rifugio, il rifugio in quota. Inizio d'anno con i fiocchi, appunto i fiocchi sono quelli di neve. Ancora nella pagina della Val Cesano, nuovo comune incentiva la partecipazione alla vita politica, ha approvato lo statuto di terre roveresche coinvolti giovani, bambini ed associazioni per dar vita in maniera attiva a questa nuova compagine politica. Apriamo la pagina di Fano, del Corriere Adriatico, le due pagine di Fano che vi faccio vedere. Ho riattivato tutti i servizi in aeroporto, tante sono le eccellenze, appunto un ottimista Ruggeri, il nuovo amministratore, dice ci prepariamo ora per l'appalto Enac e quindi insomma la pista di cemento ritorna a essere al centro delle attività di politiche di mediazione per l'aeroporto. Sulla pista sto verificando le tesi contrapposte, dice appunto Massimo Ruggeri, che vedete nella foto, il nuovo amministratore della società aeroportuale che gestisce appunto tutti i servizi dell'aeroporto di Fano. La Befana porterà i dolciumi anche ai bambini in piazza e quindi show spettacolare, quello con le vecchine appunto paracadutate e poi tutti in piazza dalle tre del pomeriggio in poi. Ecco qui vi faccio vedere la notizia che era nella pagina di apertura del resto del carlino con le spingarde. Ecco le spingarde sono queste qua, io allargo il più possibile, vedete? Le spingarde sono questi tubi che erano collegati a queste strutture che erano state fissate alle porte, ecco qui ce n'è un'altra, non due, di accesso a questo magazzino di materiali ferrosi che quest'uomo 64enne gestiva e che ahimè ai malcapitati scaricavano questi pallettoni usciti dai proiettili per fucili da caccia, insomma un modo poco ortodosso per difendere la proprietà e quindi è stato scoperto dai carabinieri e quindi è stato arrestato, ha costruito strumenti rudimentali ma estremamente efficaci e soprattutto letali per difendere il deposito che poi tra l'altro era anche abusivo. blitz dei carabinieri che lo hanno arrestato e hanno sequestrato il materiale. Ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Senigallia, avvocati politici e un prete, gli amici social della Squillo, offerte di sesso su Facebook con giochi e siti e incontri hard, profilo cancellato, quando ho capito cosa cercava l'ho bloccato, subito parla Marcello Liberani, coordinatore di Fratelli d'Italia. Poi anche qui tutto il mondo è paese, anche a Senigallia purtroppo vandali in azione si divertono ai giardini pubblici, Mangialardi annuncia tolleranza zero nei parchi contro appunto i teppisti, controlli serrati, vedete la polizia proprio di pattuglia in quelle zone. Bene, con questa desolante ultima notizia vi lascio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 puntualmente e questa sera naturalmente il nostro telegiornale. Occhio alla notizia alle 20.30. Buona giornata a tutti voi.